Ministro, questa partita è andata contro una squadra che comunque è temibile, ha dei giocatori di buon livello. Può bastare un compareggio vista del ritorno? Speriamo di ottenere ancora una cosina di più, almeno si cauteliamo un po' quella partita di ritorno, però l'importante è far bella figura e tornare contento. Io credo che la sfida decisiva sia la marcatura di Fabrizio Tieti su Palotelli. Come prevedi questo scontro difficile? È uno scontro fatti tale, eh? No, la vedo molto tesa, è sempre inizio, grazie, è andata tutto bene. Chiediamo, perché la partita ci decide il nostro futuro. Grazie.